Le donne e i cittadini di Agropoli scendono in piazza in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che ricorre il 25 novembre. Il flash mob si terrà in piazza Vittorio Veneto ad Agropoli alle ore 11. La scuola di ballo Terry Dance si è resa disponibile a realizzare un video dove al suo interno mostra la coreografia che verrà eseguita il prossimo 25 novembre in piazza ad Agropoli, con il supporto audio di Roberto Apicella che ha sostenuto la manifestazione. Sono molteplici gli episodi che si consumano ogni anno nelle mura domestiche e non solo. La violenza ha effetti negativi a breve e a lungo termine sulla salute fisica, mentale, sessuale e riproduttiva della vittima. Le conseguenze possono determinare per le donne isolamento, incapacità di lavorare, limitata capacità di prendersi cura di se stessi e dei propri figli. I bambini che assistono alla violenza all'interno dei nuclei familiari possono soffrire di disturbi emotivi e del comportamento. Gli effetti della violenza di genere si ripercuotono sul benessere dell'intera comunità. Il 25 novembre si celebra nel mondo la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, una ricorrenza istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che in questa data invita i governi, le organizzazioni internazionali e le ONG a organizzare attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica su una delle più devastanti violazioni dei diritti umani. L'amministrazione comunale, afferma l'assessore con delega alle politiche sociali, Vanna D'Arienzo, è da sempre vicina alle vittime di violenza. Presso il nostro comune sono infatti attivi lo sportello contro la violenza assistita per minori abusati e maltrattati e lo sportello contro la violenza di genere. La sensibilizzazione e la prevenzione possono essere mezzi utili a far sì che tale piaga sociale possa venire una volta per tutte arginata e magari un giorno sconfitta. ci terrei davvero tanto che partecipaste in tante e ovviamente perché no anche i maschietti. Vi auguro un buon proseguimento e vi aspetto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.